...quant'è stile preso, ecco, vedete anche gli amici del Mato Giampia pulitano questi campi, bravi, bravi ...non si preoccupi, tu stai tranquillo la signora non morde, che sta lì, errorizzato, stai tranquillo ...complementi signora per la sua ragazza, ah mi piace il casino, c'è una spesa, un mano rega moschiatta con un fan, non si preoccupi, che tranquillo ...un primo nero molto elegante, ovviamente una pallone o un targata LG, LR, LR gioielleria ...la borsetta proposta sempre da Pelletteria di Gerima Venezia ...e anche il tatuaggio fa più figure così, devo dire la verità risalta bene, risalta ...ecco adesso il suo turno ...e non si scarica mai insomma, è meglio il titolo, tranquillo ...va bene, va bene, allora abbiamo terminato con le uscite oppure c'è un'altra, vedo ci sia un'altra uscita ancora eh ...vediamo un po', fatemi un cento così, capiamo un po' adesso, cosa ti attende ancora, ci sono altre cose belle da vedere, hanno detto che ci sono meraviglie ...e poi esageriamo dai, speriamo a tempo con le mani, vai ...è un'altra uscita ...è questa cosa che bisogna ...è ora... E qui ne c'è un mondo che mi mi manda C'è tornato calma in possibilità Ti piace oggi Oh, lina, lina, passa questa schiena Salve, l'Italia, lina, 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 lina Lina, 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 l Un abito decisamente sobrio, proposto dalla nostra ragazza. Con una borsetta by Michelina Venezia, molto, molto sobria, che sta colore nero, che pensa e dice questo abito. Oh, una copia da Birlo, di legato da Trevole, per usare un po' di più, vai. Con i treci argentani e trennaki particolari. Abili solo per le grandi occasioni. Bene, siamo veramente sempre. Stanno crescendo sempre più legati e sempre più belli questi vestiti proposti dai nostri negozi, dai nostri partner. In una valentina, in una valentina, in una valentina. Sul classico, sul classico, anche perché c'è molta sobrietà in alcune vestite. Alcuni sono spumeggiati magari per qualche ragazza un po' più spiritosa, con qualche signora più eccentrica, altri sono decisamente sobri. Sì. Allora dobbiamo tutti quanti andare a tirare questo bel negozio, questo atelier di Carmela Palanca. Insieme, ovviamente, alla gioielleria LR e anche all'ottica immagine che ha proposto questi occhiali particolarissimi, fantastici. Abbiamo già citato le marche che sono davvero sensazionali, perché sono le marche più prestigiose che si possono trovare sul mercato. Ed ancora vorremmo risaltare le creazioni, perché no, della profumeria e pelletteria di Michelina Venezia, che sono davvero particolari. che si avvicino ad ogni abito. Bene. Quindi, del resto abbiamo anche visto prima delle taglie comode, le cosiddette taglie forti, che erano bene anche per le signore. Signor, ma perché è il primo anno della notte? E noi ci dedichiamo questa canzone. Vai. A mezzanotte sai che non ti vencerò, ovunque tu sarai, sei mia. E stringerò il cuscino tra le braccia, mentre sempre ho tommiso. Che splendino nell'ombra apparirà, mi sembrerà di coglie, una stella in mezzo c'è. Così tu non sarai lontano, un po' comprimerai nella mia mano. E vai, vai. E picchino. Andiamo con le mani perché arriva questo ragazzo della Diago. Si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse, vado in città. E lo diceva, mentre piangeva, e ogni domanda mi conosce col detto. Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Io potrei lavarti in casa senza andare giù nel cortile. E questa la dedichiamo proprio alle nostre ragazze, perché no? Le vediamo crescere, indossare il vestito più bello. E spesso ci chiediamo, quel vestito da dove è sbucato? Che impressione vederlo indossato, se ci vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. E' strano ma sei proprio tu, 14 anni e un po' di più. E la sera tra poco vincerai, quelle sere non dormirò mai. E tanto tempo se ne vai, non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono mai accorto prima. E tanto tempo se ne va, con tutte le preoccupazioni. Le canzi a rete ha preso già, il posto dei canzettoni.